buongiorno buongiorno ben svegliati fatto buon sonno avete riposato vi siete stiracchiati già state facendo colazione ben trovati alla quarta puntata della rubrica un caffè con fabio ambrosi punto it in realtà questa è una rubrica che non ha un nome infatti dovremmo fare un sondaggio per decidere insieme un nome da dare a questa rubrica magari tra sei mesi troveremo un nome definitivo per questo appuntamento che è ogni mattina qui su youtube alle ore 8 per fare colazione insieme ogni giorno un argomento diverso ogni giorno parliamo di uno dei tanti temi che affrontiamo quotidianamente sul sito www.fabioambrosi.it quindi informatica nuove tecnologie serie tv programmi visivi eccetera eccetera oggi è giovedì siamo già arrivati a giovedì sembra ieri che era lunedì e siamo arrivati a giovedì e anche oggi parliamo di televisione parliamo di televisione perché tanti di voi che seguono i miei video tutorial dedicati al montaggio video al video editing a premiere pro e ad after effect molti di voi mi scrivono ma come fare per diventare un montatore bravo comunque per entrare nel mondo del video editing del video making e la risposta in realtà non c'è serve molta pratica molta pazienza anche un po di culo in realtà è perché quello non guasta ma sicuramente serve molta molta pazienza e l'abilità di guardare quello che fanno gli altri prendere spunto copiare e rifarlo cercare di rifarlo bene come lo fanno i professionisti perché vi dicevo oggi parliamo di televisione perché oggi è giovedì e su sky 1 va in onda la seconda puntata di un programma televisivo che ormai veramente forse per certi versi ha anche stancato è arrivata la sua sedicesima stagione che veramente è tantissimo ma che da un punto di vista squisitamente tecnico rimane uno dei due programmi probabilmente meglio fatti prodotti della televisione italiana sto parlando ovviamente di x factor l'altro programma perché se lo stesse chiedendo è master chef da un punto di vista di montaggio video e da un punto di vista squisitamente tecnico x factor resta sicuramente il programma televisivo insieme a master chef meglio prodotto e confezionato soprattutto per quanto riguarda la prima parte quella delle audition che sta andando in onda in questo periodo appunto su sky 1 oggi è giovedì questa sera alle 21 e 15 c'è la seconda la seconda parte la seconda puntata i giudici sono fedez come poi abbiamo dar gen d'amico e ambra angiolini devo dire non proprio il cast migliore di sempre è in passato abbiamo avuto morgan elio la maionchi che sicuramente da tanti punti di vista di musica avevano molto molto da insegnare non fosse altro per la loro storia penso a mara maionchi che ha prodotto delle colonne del cantautorato italiano come per esempio fabrizio di andrè ma anche lo stesso elio e anche lo stesso morgan di musica ci hanno insegnato insegnano veramente veramente tanto la giuria di quest'anno non spicca ok per grandi competenze musicali non sto dicendo che non siano bravi e lo sono senz'altro lo sono di meno se paragonati ecco ad altri giudici però resta un fatto che la parte delle audition di x factor è sicuramente una delle cose meglio riuscita ma storicamente direi di questo di questo programma televisivo qualcuno magari si chiede ma io non ho sky come faccio a vedere x factor come posso fare ecco non vi preoccupate perché anche quest'anno le puntate sono in replica su tv 8 il mercoledì sera quindi se non avete sky e non avete modo di vedere in questa fase le audition poi a fine ottobre inizieranno i live veri e propri non vi preoccupate perché dopo sette giorni anzi dopo sei giorni il mercoledì sera ci saranno le repliche come ormai avviene da un po da un po di tempo in realtà negli ultimi anni la finale era in diretta anche su tv 8 quindi era anche in chiaro non so se quest'anno faranno la stessa scelta detto questo se siete appassionati di montaggio video guardate x factor non perché sia il miglior programma del mondo ma perché da un punto di vista tecnico resta sicuramente uno dei migliori prodotti che abbiamo tecnicamente parlo è in italia insieme a masterchef ma di masterchef magari ne parliamo a fine dicembre o metà dicembre generalmente masterchef esce subito dopo x factor quindi ci aggiorniamo a dicembre per parlare di masterchef e ci aggiorniamo domani per parlare di qualcos'altro questa è una rubrica breve che viene pubblicata ogni mattina alle 8 qui su youtube se vi è piaciuta questa chiacchierata che non ha nessuna pretesa se non quella di fare due chiacchiere registratemi a questo canale youtube per voi è solo un click a me aiuta tantissimo a far crescere questo canale e condividete questo video mettete un like commentate anche questo è molto importante ripeto a voi un commento non sembra nulla anche un insulto invece per me è importantissimo quindi se vi va chiaramente commentate cercatemi anche su instagram il mio account è ambrosifabio seguitemi perché anche qui se vi piace il mondo del videomaking ci sono molte novità in cantiere soprattutto se vi abbonate a questo canale youtube perché chi si abbona a questo canale youtube avrà accesso a dei corsi ad hoc dedicati solo a chi si abbona e in futuro anche ad un'area dedicata sul forum per commentare il forum ancora non c'è c'è qualcuno che mi ha scritto in questi giorni chiedendo informazioni sul forum il forum ancora lo sto preparando ma tra qualche settimana sarà finito e sarà uno spazio sul sito fra brosi.it in cui possiamo chiacchierare commentare criticarci sempre nella massima educazione e nel rispetto e le critiche sempre ben accette purché educate e rispettose un po di tutti detto questo grazie ci vediamo sul sito internet e sui social l'appuntamento è per domattina sempre alle 8 buona giornata mi raccomando fate i bravi grazie a tutti 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 grazie a tutti